E' terminata un'altra settimana e quindi eccomi qui per fare il resoconto Lunedì sono stata a casa da scuola perché avevo l'influenza Che bella giornata, quindi mi sono persa pure la verifica di matematica Che hanno fatto i miei compagni e non so ancora quando la ric- Martedì invece abbiamo avuto verifica di educazione civica Era proprio quella dedicata alla parte di diritto Quindi avevamo la Nato, l'UE, l'ONU, eccetera Poi abbiamo avuto mercoledì invece la riconsegna della verifica di scienze Dove ho fatto anche il reveal del voto qua su TikTok e ho preso 7 meno Quindi 6.75 E sempre mercoledì invece ho avuto l'interrogazione in inglese E' un'interrogazione su Blake, Walshruf, Coleridge, Kitz, Mary Shelley e Percy Shelley E ho preso 9.5 Giovedì invece abbiamo avuto i giochi di Archimede Che sono dei giochi matematici e fisici E vedremo se qualcuno passerà alla prossima fase Venerdì e sabato invece non abbiamo avuto niente di che C'è stata la verifica di recupero di storia dell'arte E le interrogazioni di storia ma io sono lunedì E vedremo se